Grazie signora Presidente. Porto l'attenzione e di quella dei colleghi un fatto accaduto ieri mattina presso il Tribunale di Catania. Un episodio che mi ha profondamente ramaricata e a contempo indignata come donna, come avvocata e prima ancora come cittadina italiana. Mi riferisco alla frase «E allora scelga se fare l'avvocato o la mamma», rivolta da un giudice, uomo, del Tribunale di Catania, in pubblica udienza, a un avvocato donna e madre di due figli, che si era limitata dopo una mattinata in cui l'inizio dell'udienza era stato, per discussioni d'ufficio, posticipato ripetutamente, a chiedergli di conoscere l'ordine dei lavori con cui intendeva procedere nella trattazione delle cause. Una richiesta di conoscenza si basi, non di preferenza. Un modo di procedere che, come ricordano anche altri professionisti del foro etneo, rispondeva alla prassi quotidiana. Una richiesta del tutto legittima e che l'avvocata avrebbe avanzato non solo perché preoccupata che un ulteriore slittamento d'orario le avrebbe impedito di riuscire a prendere figli a scuola, ma, in generale, per dare a tutti gli avvocati presenti la possibilità di organizzarsi al meglio. Quanto accaduto è grave, molto grave. Va stigmatizzato e denunciato con forza, senza alcuna tentazione di sminuirne la portata qualificandola come una mera caduta di stile. Si è trattato di una mancanza di rispetto gratuita e motivata. Una frase dallo squallido contenuto sessista che rappresenta l'ennesimo segnale di inciviltà, che non può tollerarsi da nessuno, ma è che meno da un magistrato che, per il ruolo che ricopre nella società e per l'istituzione che rappresenta, dovrebbe garantire ben altre virtù. La negatività dell'episodio emerge ancora più evidente oggi, una giornata molto significativa per il nostro Paese, in cui assistiamo all'elezione di Marta Cartavia, a Presidente della Corte Costituzionale, prima donna a raggiungere il vertice della consulta. Questa nomina è un segnale importante di riconoscimento delle competenze e delle qualità femminili. È un segnale che dimostra che si premia il merito e la competenza. E questo è il messaggio che auspico si raudichi in tutti gli ambiti della società. Grazie Presidente.